Tortoretta è un'emozione da condividere, parte una campagna promozionale frutto di una collaborazione tra l'amministrazione comunale e l'associazione di albergatori con un obiettivo chiaro sui social, soprattutto sul web. Assolutamente sì, è la nostra prima campagna promozionale che vede 25.000 euro investiti dall'ente e 10.000 euro investiti dall'associazione albergatori, quindi che contribuisce a questo progetto e li voglio assolutamente ringraziare. Una campagna concertata all'interno del comitato turistico che quindi ha visto anche dei suggerimenti provenienti dall'associazione dei balneatori e che andrà a incrementare la nostra visibilità e quindi ci auguriamo a convertire questa visibilità in maggiori prenotazioni, specialmente nei periodi più difficoltosi e quindi sarà anche una campagna che verrà rimodulata ed aggiornata costantemente in base a quelli che saranno gli andamenti effettivi delle prenotazioni, i target su cui dovremo investire di più. Sotto questo punto di vista si partirà nei prossimi giorni per questa stagione, insomma fino al mese di settembre anche con degli obiettivi chiari, cioè ci saranno ovviamente i target di riferimento su cui indirizzare la campagna promozionale. Assolutamente, saranno sia target di geologizzazione quindi in base ai territori che tradizionalmente più hanno frequentato Tortoreto ma anche di età quindi di genere anche di persone che vengono a Tortoreto quindi famiglie indubbiamente, terza età e abbiamo raccolto anche suggerimenti proprio in questa occasione di coppie senza figli che pare stiano cominciando a preferire Tortoreto ad altre località. Chiaramente il bello di questa campagna è che viene dagli stessi utenti perché come avete detto anche nel nome utilizza come veicolo di promozione proprio i commenti, tanti commenti positivi che Tortoreto riceve sui social e nelle recensioni che hanno sorpreso la società che poi ha realizzato la campagna poiché estremamente positivi specie se rapportati diciamo al pubblico complessivo. Quindi un numero molto alto di feedback positivi che indubbiamente va a premiare un modello turistico condiviso con gli operatori che evidentemente sta dando i suoi frutti di buona gestione.